A partire da domani 24 agosto è possibile presentare ed esclusivamente online la richiesta per accedere agli abbonamenti gratuiti concessi dalla Regione Campania agli studenti campani. La campagna di sottoscrizione garantisce per il sesto anno consecutivo la possibilità per gli studenti campani di richiedere l'abbonamento gratuito per il percorso Casa Scuola Università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano. L'iniziativa lanciata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca diventa strutturale e rappresenta uno degli interventi più qualificanti dell'amministrazione regionale sul piano sociale di sostegno alle famiglie. La richiesta va presentata accedendo alla piattaforma attraverso la sezione del sito del consorzio Unico Campania. Per semplificare la procedura di rinnovo e consegna dell'abbonamento, quest'anno il titolo di viaggio sarà anche in formato digitale da scaricare direttamente sul telefono degli studenti attraverso l'app Unico Campania. Completato l'iter di rilascio dell'abbonamento, lo stesso sarà automaticamente materializzato nell'app Unico Campania del consorzio, accedendo con le credenziali dell'account creato nella piattaforma di richiesta. Allo studente basterà attivare il titolo e viaggiare. Restano confermati i requisiti che negli scorsi anni hanno consentito l'accesso all'agevolazione annualmente ad oltre 130.000 studenti, ovvero la residenza in Campania, l'età compresa tra gli 11 e 26 anni compiuti, l'iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado, medie e superiori, università e master, possesso della certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.